Ragazzi, ragazzi, rieccoci qui su Tales of Arise Dunque, finalmente il nostro protagonista ha mezzo volto scoperto Ma secondo me alla fine della storia, dell'avventura, lo avrà tutto Non si sa però perché questa maschera ha strane reazioni Si illumina di blu ogni tot, non so, vabbè Vabbè, immagino lo scopriremo Abbiamo battuto il primo signore, insomma, dei renani E' stata veramente dura Uno scontro duro anche perché ero sottolivellato proprio di tanto Però ce l'abbiamo fatta lo stesso Adesso avevo completato una missione secondaria Qua ce n'era un'altra Ma vediamo se questo qua si deve decidere a che abito mettere Però vediamo, non so Se si è deciso Ah, ecco, benissimo, finalmente so quello che voglio Ora non mi resta che trovarlo Cioè Ah, ma non neanche lo sapeva Ah no, si dice che non è ancora pronto Vabbè, niente Mi mettiamo da parte No, ho sbagliato Non volevo premere, vabbè Meno siamo sicuri Ok Si dice che deve passare un po' Un po' di tempo Poi abbiamo l'altra missione in sospeso Però non possiamo farla Quella della mantide Dove è che devo andare io? No, giusto per Ah, qui abisso Abisso di fuoco Ma Per andare lì A vedere Qua è segnato Ah, castello Porte del fuoco Porte del castello Forse devo andare di qua Ah, e qui c'è Aspetta che controllo Cioè che ci sono No Qui non ci sono missioni No, qui no No, ma penso che le missioni che c'erano le abbiamo prese Ma quello cos'è? Ah, è l'accampamento Ok Si, perché comunque le segna Quindi qua ok Va bene Allora, forse devo andare di qua Bisso di fuoco Dobbiamo vedere praticamente Il posto che abbiamo distrutto Con la spada ardente Aspetta di qua A porta del fuoco Di qua Qua c'era un gufo Ma ok Abbiamo già preso Ok Vabbè sconfiggiamo queste Facciamo un pochino D'esperienza Ok Ok Posto e il suo lavoro di una nuova e il suo lavoro di un uomo è stato un po' di questo mondo che si è stato un po' di questo mondo è stato un po' di questo quindi molti di dana che i nostri per questo ma Ma... ...d'essere il loro potente ...di il loro potente ... Ma... ...d'essere il lato? Lato lato è il mondo ...d'essere il mondo ...d'essere il lato ... ... ... ... E allora, ma che si mette la energia del regno? E poi, la prima cosa che la dana non riesce a tornare a casa, no? E non mi ha insegnato a casa? Perché la dana è riuscita a perdere? E come sei se? E' un'acqua di ferro, e' un'acqua di ferro di me. E' un'acqua di energia del regno del regno del regno. Sì, certo. Sì Sì Eh sì, ti vedo che sarai molto impegnata a stare di ferma Trova Doc a Mosgul e chiedi delle medicine Mosgul era... aspetta Adesso possiamo viaggiare rapidamente qua Ok, e facciamolo dai Ecco qua Ah aspetta che c'è qualche dialogo Sì Ok Controllo la mappa non c'è niente Ok, possiamo parlare con lui Ehi Doc Ehi Doc Ehi Doc Com'è tu chi sei? Ma scusa, la mezza maschera non la vede? Ehi 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 Questa storia Tanto sappiamo che alla fine si scioglierà Ehi Ehi Ok Ok Facciamo così Ecco Ecco Quindi dobbiamo cercare qui Ehi 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 Parlava con te Ehi Si Si deve abituare alle altre persone Si deve abituare alle altre persone Abbiamo capito Ma dove cerco qua? Nell'acqua Nell'acqua no? C'è dove la carpa Ehi Aspetta Aspetta Ok 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 Ehm Ehm Boh Provo a cercare qui in giro Magari qualche Oggetto luccicante Magari Qua ci sono i funghi Vediamo qua Ok Fragmento di ferro Così magari si trovo altri frammenti di pietra Prendo il fucile per lei Oh Ape Olè Aspetta Ok Ok Mmm No Ehm Pannello abilità 290 427 Ecco Lei magari inizia ad averne Una cifra interessante Recupero Incrementi danni infitti da una bomba di scione Si è lanciata come ultimo premettere speciale Incremento munizioni speciali Glaccio celestra Sgancio enorme E' un enorme blocco di ghiaccio Ma I nemici congelati Presumo Ricevano più danni Presumo A incremento Bia massima Mmm Prendiamo Si dai questo qua del ghiaccio E noi Noi aspettiamo Mi sa Arte occulta Questa quella consuma 2 Arte occulta che libera una afficca di affoglie Poi conquista uno spettacolare fendente Mmm No aspettiamo un attimo Quindi lei Ma Ehm Io la metterei Il posto di attacco rovento No dov'è Ah non si può No era Ah è quella in aria Ok la metto qua Ecco Ok Qua c'è qua un sacco Girattina alla mela Vai sconfiggiamo tutti Andiamo di qua Anche la in aria Ah la non sono andato Vediamo magari c'è qualcosa Ah Ah Machacere Ah No Ah 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 Anche la tre Qui Ah Aspè, questi sono già morti Ma siamo sicuri che dobbiamo cercare proprio qua? Vediamo La destinazione in teoria è questa Se io metto... No vedi, il castello non è segnato Va a vedere Pepe, Pepe Caverna Pepe, Pepe Girattina che te lo dice Fungo, sì però Non lo so Ah qua, ok ho visto adesso Ho capito, qua, qua devo andare C'è uno scrigno 500 gold Tagli di carne Ah qui Ma c'è il viaggio rapido Signorina, c'è il viaggio rapido Aspetta Ecco, riempiamoci di Pepe No, invece non c'è più il viaggio rapido Me l'han tolto così Allora, devo andare quindi qua Mi sa Vediamo la mappa Almeno qua Esatto Eh, boh, magari capiterà qualcosa Per questo Non si può viaggiare rapidamente È giusto di qua, sì Ecco me C'è il viaggio rapido Ah Ah, ah Ma... ... sello questo... ... così... ... 응... ... ciò che sta sta cambiando... ... ciò che sta sta... ... non è che... ... ma non è mai vero... ... ma che si sta Newsom... ... mi piacerebbe... ... in questo modo... ... dovrebbe essere più d'acqua... Vabbè lui magari porterei subito il medicinale a quella ragazza se fosse in testa va bene o magari poi ci curano devo andare a piedi va bene torniamo indietro a piedi i nemici si riformano noi noi li evitiamo anche loro un po' ci ignorano un po' no un po' no ma faccia a faccia Grazie a tutti 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 Stavo leggendo Ok Ok Prendiamo tutto Ok Ci saltiamo addosso Ok 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 Con loro veramente Non mi devo preoccupare Anche perché poi c'è Grazie a tutti Stavo Sade, è bello lui. Cosa? Non... Non... Se non ci sono, non ci sono mai avanti. Non ci sono mai avanti. Non ci sono mai avanti. Non ci sono mai avanti, ma non ci sono mai avanti. Non ci sono mai avanti. Si mi ha chiesto? Rinwell. Sion ha fatto la scuola. E' così? Fu lo lorau! Fu lo! Ah! Fu fühle! FuSON! Se tro Mega Manso. Si voglia di pensare una cosa qui 1080p. Noi. Un lo che è緊 pero... Non è proprio una cosa voleva. Ma tutto 하ena così. Ho Ok Abbiamo salvato un gufetto Forse vabbè ufficialmente ce li introducono qua Però noi ne abbiamo già visti prima Questi gufi Va bene va bene Ah un accampamento Oh appunto viaggio veloce Questo Ok No risparmiamo Sti soldini Però posso Vendere tutti gli arti Ah si però che ho roba che posso C'è la loro funzione è solo di vendita Quindi si Ok Invece il resto Il resto no Potrebbe servire Per altro Quindi ce lo teniamo Va bene Abbiamo fatto un po' di soldini Forge arma Non ho Il frammento di pietra Non ce l'ho E niente Va a dire che Si riposiamo Ok Vediamo se c'è magari qualche dialogo Nanda Giro Giro Mite Anata no kakko wa Dana no sensi Na no kashira Sonna tai so na monja nai Sucaesou na mono o suca Te Sucaiasco Igitta Da Da Shareta Jochan ni mirareru To Chotto Chihazukasī Gana I Ie Mighi gawa ni hijiju o oi te iru no Hikite da kara Sore mo Al Na Tatakai bakari de Iro iro gata ga kichima Tero tero Honttono Tocoro da Soodatta Na Kikite gawa no soko Atsuk Narehodo A parte questo Mi sa di no Faccio riposa Cuciniamo qualcosa Cremento difesa elementale Ripristina punti vita Dopo la battaglia Minimo No ma Questo no Cremento difesa Cremento attacco G sarà grande Penso Incremento esperienza Aspetta 10 minuti 18 minuti Boh Facciamo Facciamo incremento Quanti ne posso fare Posso fare Perché magari Certe cose Forse è meglio Tenerle A sto punto Per un boss Però tipo Magari Incremento difesa Minima Tre unità Di grano Posso anche Consumarle Così Sì dai Per questo Ah Sean Scegli un'altra Va bene Ok Ok Cos'è Se nella zona Secondo un gu Forse interiare il suo verso Potrebbe trovarsi ovunque Dalle fronde di un albero All'interno di una cesta Quando trovi avvicinati Ed esaminano Ah eccolo Ok Madonna Occhiali Vabbè sì Sono i collezionabili Ok Grotta di Ulvan C'è un gargoyle C'è un gargoyle C'è un gargoyle Rotta di Ulvan Rotta di Ulvan Qui Quindi lui è convinto Cioè noi siamo convinti di essere Oddio Da nani come cavolo si dice Invece secondo me siamo renani Secondo me si Funghi con pentacoli Nivello 14 Attenzione Questi avvelenano Aspetta E facciamo Ok Ok Eh questi mi sa che ci fanno livellare Eh Sali si Qua sti gargoyle Eh appunto E fige ingannevole La scuola Sì Vai Ok, molto bene Ma questione è salita a livello 10 Non so quando, non me ne sono accorto Vabbè, meglio così Sì 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 Hai appreso distruzione Non ho capito Sì 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 Mi ha avvelenato Mi sa Sì 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 Ma Lo fa vedere Arti Distruzione Perché ho imparato distruzione Perché ho imparato distruzione Non saprei Sì Ehm Ampio attacco circolare seguito da un colpo al suolo da cui scaturisce una pioggia di etretti rocciosi Attacco terrestre Attacco di spada Mettiamolo al posto Tanto alla fine attacco sonico è utilissimo, devo dire, come ho detto Proviamolo Uso Sì Uso più attacco sonico che Attacco rondine Quindi Miraggio Ok Ehm Va bene Subire più volte ovviamente attacchi nemici Eh Non ho letto Ma non siamo avvelenati No, no No, mi sa che a fine scontro Gli stati spariscono Eh Questo è buono Andiamo Aspetta Ah, così E' un po' lento Però Resistenza Resistenza Ok, oh nooo Mi sa che ci ha pensato Sean Accurato Ok Ok Qua Vabbè ma qua non ci, ah qua non ci arrivo, ok Minerale persistente Minerale persistente Aspetta, mappa E qua c'è una freccia Comunque devo andare, qua c'è punto di domanda Devo andare di qua Devo andare di qua, quindi devo andare qua a destra Allora noi andiamo di là Dai, venite qua Eh Eh, ha la resistenza anche questo Perché è tipo terra Eh sì, loro sono di tipo terra Nella via al dentro Ah vabbè, Sean è la terra Aspetta Ok Ma è solo un graffio, insomma Io non direi Possiamo usare... No, forse almeno uno Beh, non volevo usare un oggetto Francamente Ragazzi aspettiamo che si curi lei Vabbè durante uno scontro I funghi Questi difendono uno scrigno Vabbè che si cura, vabbè che si sta curando Esatto Ok, ne ho presi due Noo Noo Noo, mi ha avvelenato Ok, ne ho presi due Noo Ok, ne ho presi due Noo Noo Noo, mi ha avvelenato Ok Bottita di panacea Medicinale adatto a vari sintomi Di cura Proteggeti probabilmente un alleato Dalle alterazioni fisiche Durante la battaglia Ok, tre Aspetta, vediamo di qua un attimo Opla Ceratina all'arancia Beh dai voi vi salto così Ma qui Scusa eh Mappa Qui andiamo giù Andiamo No No No, decisamente Però non so di che livello sia Fino all'arancia E poi di qua Ah, qua ci ricolleghiamo qui Troviamo Rupert fremente Beh, siamo in tre stavolta Aspetta Magari No, mira Questo qua Aia No Oh La mia vulnerabilità Immersione Mi ha preso E mi ha curato Grande Aspetta 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 Vai Ehm Facciamo una cosa Ok Ok Persorrezione Ok Esatto E poi facciamo così Se abbiamo consumato un po' di Ulticura Vabbè Ma ci sta Ma ci sta Punti deboli Alcuni nemici di grande dimensione Presentano Punti deboli Arancioni Inferisce al nemico una certa quantità di danni per distruggere gli atterrarlo Punti deboli di alcuni nemici possono essere colpiti direttamente Ah, qua Aspetta Ok Attenzione Ok 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 No va No va No va No va Ecco Sfondar, sfondarmi Dov'è il punto debole? Ah no, l'avevo rotto Attenzione Attenzione Dammi un po' di gelatina Cosa è sta roba? No, mi ha seccato, aspetta No, no, diciamo così Tira della vita Eh sì, la vogliamo Ok Ah no, è sempre qua Ok, pensavo di averglielo rotto Quello affare Eh ma Aspetta Ok Ok No, 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 no Vini qua, vini qua, vini qua Ah no Ho calcolato male i tempi Aspetta No Facciamo così Eh, è suscitato Fiore astrale Fiore magico Incrementa 10 punti PC massimi La energia astrale è cristallizzata Di dove non ha riflessi Ridescenti Fiore astrale Convince nemici più potenti Per ottenere Fiore astrale Che permettono Di incrementare PC massimi Ottimo Zugol gigante Alcune aree sono popolate Da zugol giganti Sono avversari ostici Ma sconfiggendoli Potete ottenere oggetti rari E molti PA Sì Ok Maglia d'onici Maglia decorata con onici Si dice che le gemme mutino Colore assorbendo L'energia astrale A vedere Non si è ammessi benissimo È per noi Ok Però Esatto Qua è sempre uguale Va bene No Punti No Quando è l'abilità Mi sa che comunque I punti abilità Ce li dà lo stesso Anche se finiamo a terra Questo è buono Almeno non devo per forza Avere tutti Vivi Fine sconto Allora Allora Ah eh No 561 È tanto La schivata perfetta Mi capita spesso Devo dire Quindi secondo me Questi due Incremento BA massima Io quasi quasi aspetto ancora Aspetto e poi prendo Prendo questa Costa tanto Però 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 la BA ci serve 334 Anche qua Più BA Più Abilità può usare Eh Va bene Sì Aspettiamo Aspettiamo Adesso noi non stiamo benissimo Però Mappa E non vedo Falò Però Non so Vediamo